ciao ragazzi io sono riccardo bentornati nel mio canale youtube oggi parleremo di taglio laser non sarà un vero e proprio tutorial il tutorial sul taglio laser lo sto preparando spero di pubblicarlo in questi giorni e tratteremo tutti gli argomenti che riguardano il taglio del legno con gli incisori laser oggi voglio parlarvi però di questa griglia che mi vedete utilizzare sotto all'incisore laser praticamente ad ogni video e in tantissimi commentate sotto i video chiedendomi delle informazioni delle curiosità dei consigli per ottenere dei buoni risultati bene partiamo proprio dalla griglia perché durante quel tutorial voglio soffermarmi più che altro sulle impostazioni voglio evitare di perdere tanto tempo parlando di troppe cose quello sarà un video leggermente più tecnico ovviamente adeguato alle mie capacità sono un appassionato quindi vi trasmetterò quello che so ma oggi voglio parlarvi di queste griglie questa è della de wally vi lascerò il link per poterla vedere poter vedere tutte le varie caratteristiche e ha una differenza rispetto alle altre quindi il motivo per cui l'ho scelta ma adesso guardiamo com'è fatta vediamo soprattutto perché utilizzando una griglia di questo tipo si possono ottenere dei tagli di qualità superiore quindi dei risultati migliori rispetto a un taglio realizzato senza l'utilizzo di questo tipo di articolo mettiamolo sul bancone facciamo un paio di esempi e vi faccio vedere quali sono le differenze iniziamo e allora innanzitutto vediamo come sono fatte queste griglie la struttura è in alluminio e al centro abbiamo questa parte in metallo a nido d'ape questo permette al laser di poter oltrepassare il pezzo sfogando verso il basso ma soprattutto permette che la sporcizia la bruciatura che si forma non rimanga sulla superficie non sporchi il pezzo in lavorazione questa in particolare anche queste guide laterali che ci permettono di utilizzare questi pezzi quindi di fissare il pezzo che dobbiamo incidere soprattutto nel caso in cui utilizziamo l'air assist evita che lo stesso con la uscita dell'area si sposti se stiamo lavorando per esempio su del tessuto stiamo lavorando su pezzi leggeri ma guardiamolo proprio nell'utilizzo vediamo come funziona vediamo qual è la sua caratteristica quindi realizziamo un paio di tagli senza griglia dopo di che realizziamo un altro paio con la griglia e guardiamo le differenze utilizziamo quindi la base in metallo la stessa che viene data in dotazione per eseguire un taglio su questa superficie in legno si tratta di molti strato di betulla da 3 mm faremo una prova sia con l'air assist che senza air assist sia per quanto riguarda questa prova senza griglia per quanto riguarda la prova con la griglia quindi inizio con il primo taglio ok adesso stacco l'air assist già adesso notiamo intanto la differenza fra l'utilizzo dell'air assist e senza air assist solleviamo il pezzo guardiamo dalla parte opposta guardate quanto è sporco dalla parte opposta a quella di taglio da questa parte abbiamo un bel risultato da questa parte invece abbiamo tutto sporco facciamo la prova con la griglia e guardiamo la differenza l'utilizzo innanzitutto di una griglia come questa ci permette di sfruttare la presenza di questi fermi quindi possiamo mantenere appunto bloccato il nostro pezzo ed evitare che lo stesso si muova io in questo caso ne ho messi due corti e due lunghe per farvi vedere come si posizionano ma vengono dati in dotazione altri due pezzi lunghi e altri due pezzi corti quindi possiamo utilizzarlo in base a ciò che dobbiamo incidere ed è presente un foro dalla parte opposta adesso farò delle inquadrature ravvicinate per poter inserire dado bullone vita farfalla eccetera ma noi in questo caso non lo utilizziamo e vi farò vedere quindi lo stesso taglio che abbiamo eseguito poco fa con e senza air assist per vedere la differenza nella pulizia dello stesso e allora con le stesse impostazioni quindi 200 mm al minuto il 90 per cento di potenza utilizziamo l'air assist e facciamo il primo taglio che sarebbe lo stesso taglio che nella prima prova è venuto bene nella parte superiore ma ha lasciato un pochettino di sporco nella parte più in basso ok in questo caso abbiamo comunque la stessa pulizia che abbiamo ottenuto poco fa però la differenza la vedremo nella parte in basso quindi spengo l'air assist e vediamo di fare un altro taglio a fianco questo e senza air assist guardiamo subito la differenza allora il primo pulito come era pulito nella prima prova quando non abbiamo usato la griglia guardate la parte posteriore in questo caso è rimasta pulita come è rimasto pulito nella parte frontale questo ci fa capire che in questo modo il laser sfoga e quindi otterremo un risultato sicuramente migliore ottenendo un anellino che prima è venuto sporco dal lato e pulito dall'altro e adesso è pulito da entrambi i lati ma questi spessori possono essere utilizzati anche per sollevare il pezzo quindi distanziarlo dalla griglia quindi riuscirò a capire se eventualmente è necessario fare un altro passaggio o meno si può in realtà utilizzare anche qualche scarto di lavorazione da mettere sotto ma in questo caso lo abbiamo già in metallo quindi non c'è il rischio che eventualmente si bruciano oppure si taglino quindi facciamo un ulteriore prova in questo caso riusciamo a capire se i pezzi si sono staccati semplicemente premendoli e così riusciamo a capire che effettivamente si sono tagliati perché il pezzo è andato verso giù nel caso in cui non si fosse mosso avrei potuto eseguire un altro passaggio invece con il pezzo poggiato direttamente sulla griglia avrei potuto avere qualche difficoltà a comprendere se il taglio fosse stato realizzato al primo passaggio oppure no comunque sia quello che ci interessa è la pulizia effettiva del taglio che come vedete in questo caso è venuto sporco un altro vantaggio nell'utilizzo di questa griglia è proprio il fatto che essendo una griglia riusciamo a vedere il raggio laser che passa attraverso il pezzo e quindi riusciamo a capire se il taglio è stato eseguito oppure no anche visivamente basterà semplicemente osservarlo per accorgerci che il laser è passato dalla parte opposta come vedete si capisce che il taglio è stato eseguito proprio perché attraverso la griglia si nota il laser che passa dalla parte opposta e come vedete la superficie di appoggio comunque rimane pulita effettivamente a differenza dell'utilizzo semplicemente di un piano in metallo guardate quanto sporco si è accumulato il pezzo successivo ovviamente si sporcherebbe perché andrebbe a contatto con questa parte quindi questo adesso è pulito una volta appoggiato da questa parte si sporcherebbe tutto quindi ci toccherebbe andare a pulire in continuazione la superficie invece utilizzando la griglia punto d'appoggio rimarrebbe pulito e allora ragazzi come avete visto una griglia per realizzare i tagli ci permette di ottenere dei tagli molto più puliti con e senza air assist una griglia ci permette di vedere bene quando il raggio laser altro ha oltrepassato il pezzo quindi secondo me è un elemento fondamentale per chi utilizza il laser prevalentemente per tagliare perché lo utilizza per incidere effettivamente se ne può fare a meno ma ricordatevi sempre comunque di utilizzare una base che vi permetta di impedire al raggio laser di colpire la vostra scrivania perché se sbagliate i settaggi può succedere oppure se il pezzo dovesse spostarsi prima di avviare l'incisione laser può succedere che il laser vado a colpire la superficie sulla quale appoggiato quindi scrivania bancone eccetera mi è successo e sicuramente non è una cosa piacevole questo viene fornito anche di base in metallo come avete visto la parte che si è sporcata quando non utilizzato la griglia viene data proprio in dotazione con questo oggetto quindi con la griglia fate in modo che quando lavoriate siate sempre al sicuro che se oltre alla sicurezza riusciate a ottenere dei pezzi con dei buoni risultati perché nonostante tutti i settaggi nonostante tutte le impostazioni date correttamente spesso i tagli non riescono bene proprio perché il laser non riesce a sfogare verso giù e se riesce comunque ad eseguire tagli come avete visto i pezzi sono puliti dalla parte di sopra e sporchi dalla parte di sotto spero che questi consigli vi siano stati utili dei consigli semplici con degli esempi banali che però servono a capire quali sono le differenze fra un utilizzo corretto e un utilizzo non corretto nel prossimo video spero di fare un tutorial che riguarda le impostazioni e tutti i consigli in base alla mia esperienza per ottenere dei buoni risultati sui tagli del legno adesso vi saluto vi ringrazio di aver visto questo video spero che vi sia stato utile quindi vi invito a cliccare sul tazzino mi piace cliccate anche sulla campanella dopo esservi iscritti e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti ciao da riccardo ea presto